Ma anche una legazione della continuità territoriale è sempre più costoso raggiungere la Calabria e viceversa dalla Calabria venire in Sicilia e questo è stato già denunciato anche dall'Antitrust che ha denunciato l'attività di monopolio di questo gruppo privato. Noi abbiamo con oggi portato in piazza il senso di rabbia e di indignazione di una comunità che ha assistito in silenzio a 40 anni di violenze sul territorio, di inquinamento, di caos, di vittime per le strade. Oggi questa comunità ha reagito, questo è il primo passo di un movimento che così come ha combattuto la grande opera, il ponte sullo stretto e ha vinto. Chi intende vincere questa battaglia contro questa speculazione? No! 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 Yes! No! No! Fuori Idil, è la città! Fuori Idil, è la città! Fuori Idil, è la città!